Benvenuti su Ultimora Gossip TV. Prima di iniziare ricorda di mettere un like, seguire il canale ed attivare la campanella per restare sempre aggiornato. Lele Mora è stato uno degli agenti di VIP più influenti in Italia nei primi anni 2000. Ha contribuito alla fama di personaggi come Fabrizio Corona e Belen Rodriguez. Belen Rodriguez ha iniziato a farsi conoscere grazie alla sua partecipazione all'Isola dei famosi, ma c'è una storia interessante dietro il suo arrivo in Italia. Ospite nel podcast Gurulandia, Lele Mora ha raccontato il primo incontro con Belen Rodriguez e il particolare contratto che ha stipulato con lei. Durante un capodanno a Cortina, Lele Mora ha conosciuto Belen, che era arrivata con il suo fidanzato Marco Borriello. Belen gli ha chiesto di poter lavorare con lui, ma aveva un problema, non aveva il permesso di soggiorno necessario per rimanere in Italia. Lele Mora ha deciso di aiutare Belen, procurandole un biglietto di andata e ritorno per l'Argentina, visto che lei non aveva i soldi per pagarlo. Non solo, Lele Mora ha offerto a Belen un lavoro per rendere la situazione credibile, l'ha assunta come badante e cameriera. Grazie a questo stratagemma, Mora ha poi fatto partecipare Belen a un programma su Rai 2 e successivamente all'Isola dei Famosi. Da quel momento è nato il fenomeno Belen Rodriguez, che l'ha portata alla notorietà e al successo nel mondo dello spettacolo italiano.